Dare voce, corpo e forma sonora a ciò che è improbabile, è impresa più che ardua, ma loro ci sono riusciti in maniera superlativa. Vi voglio presentare i Non Linear. Amici, più che un vero e proprio gruppo, io direi che sono dei pazzi che si sono uniti per suonare di tutto, ma proprio tutto quello che li passava per la mente. Riescono a passare con disevoltura dal rap all'emo, dal metal al sound stile videogames anni 80, dal pop rock ad electronic dance, insomma, si muovono nell'ambiente sonoro musicale come un Viet Cong nella giungla. Sono l'ipotesi dell'underground, più gogliardico e demente, tinto di elettronica e deliri vocali. Dovete ascoltarli per credermi. Si definiscono tamarri, irridenti, dissacranti, ma soprattutto devastanti. Penso che dopo questa presentazione non vedete l'ora di ascoltarli, vero? Guardiamo insieme il videoclip intitolato Stacce. Stacce.